Lettera aperta del consigliere comunale di Caltanissetta Salvatore Petrantoni che definisce il sindaco ruvolo millantatore perché spacerebbe il rilancio dell'università nissena attraverso la nascita di altri corsi. Addirittura, sottolinea Petrantoni, preannuncia una conferenza stampa per la prossima settimana per presentarne i dettagli. Nella lettera il consigliere domanda a quale titolo il sindaco ruvolo partecipi all'assemblea del consorzio anche perché, aggiunge Petrantoni, i soci e l'amministrazione comunale lo è, per partecipare all'assemblea devono essere in regola con i pagamenti dovuti. Mi giunge voce, si legge nella lettera del consigliere comunale, che avreste un accordo per pagare il debito dell'amministrazione comunale nei confronti del consorzio che ammonta a oltre 1 milione e 600 mila euro in comode rate mensili da circa 80 euro al mese. Ma se i soldi esistono in bilancio, aggiunge il consigliere, che senso ha procedere a questo tipo di dilazione? C'è veramente da rabbrividire, afferma Petrantoni, nel vedere come gestisce il comune e il solo pensiero che possa ricandidarsi lascia sgomenti. E poi il consigliere chiude la lettera con una sua certezza. Infatti scrive, il prossimo sindaco di Caltanissetta, siamo sicuri, saprà cosa fare in qualità di socio e di primo cittadino di una città offesa e vilipesa.